Devo dirti, cioè, mi puoi rispondere direct su Instagram Almeno, quindi è davvero lui, mi sta cavolando Ragazzi, in questo video mi fingerò da Supreme Siccome Octi sei un falso è tornato Joe mi ha contattato subito e mi fa Octi, guarda che c'è Octi un falso, facciamogli uno scherzo Così ho deciso di chiamarmi da Supreme su Fortnite E di fargli un bello scherzetto Mi sono messo il set di da Supreme Che ho usato nel torneo di qualche giorno fa E mi fingerò lui rispondendogli tramite delle soundboard Esempio Ciao, ciao, fratellino Io gli parlerò tutto soundboard Ho un sacco di soundboard da Supreme, delle sue canzoni Così lo fregherò di brutto Lui adesso non mi sente Tantissimo, tantissimo Ma prima ragazzi, mi raccomando, mi raccomando Iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati ai 420.000 iscritti Supportatemi nello shop come creatore col coach Octi PFI Dai che siamo quasi ai 25.000 Ora siamo a 22.000, arrivati ai 25.000 Entro l'inizio della nuova season Regalerò 25 pass battaglia in live Il giorno della nuova season E soprattutto seguitemi su Instagram A Octi PFI Detto ciò Detto ciò Adesso mi smuto Oh, ma Oh, ma Mmm Quanto ci metti Già quello schifoso di Joe Ciao, ciao, fratellino Oh Oh Mmm Ma Aspetta un attimo È vero? È stupido È stupido È stupido No, 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 Joe Joe Eh, dimmi, dimmi tutto, dimmi tutto Joe, ma Ciao, ciao Per una volta ti sarei usutile Quindi è davvero lui? Ti prego, ti prego, adesso prima, ti prego Voglio fare una box fight Ti prego Ma come non lo sai Vabbè tanto fidati di me Come sono bello io mettere pronto Vero? Dai su Bravissimo Che stupido ci sta credendo Che stupido Lo sapevo sono troppo bravo Gio una roba comunque Io sono tanto fan di The Supreme Io vorrei tanto sapere Come la sua vera voce No mi dispiace non può parlare Sotto contratto Va bene così Comunque rispetto per te bro Che stupido Che stupido Vabbè intanto Allora entriamo Te giù per favore non entrare come al tuo solito Ok no perché se no Cioè sarebbe troppo facile Vado io in squadra della Duda Non voglio scomodarlo Oddio ho risposto Va bene va bene Allora chi sei? No no ci sta credendo Che idiota Che idiota No Gio Gio Ma che roba È stupido Allora sono pronto Però di sicuro mi ammazzerà Allora adesso prima Comunque volevo dirti tanto una roba Cioè Cioè Allora aspetta Volevo dire che c'è Mi può rispondere direct su Instagram Cioè capito Almeno Eh vabbè ma Capito Cioè io sono un tuo fan Potresti anche essere gentile una volta Eh vabbè Comunque se è troppo forte bro Facciamo una cosa Facciamo una cosa Ti sfido Se arrivi Se arrivo io a 10 Prima che ci arrivi tu Mi lega lì un accanto Con la burrosa Si sei Bro No 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 Se sei No 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 Fra si sei serio Allora aspetta un attimo Va bene ok Però aspetta Io ci voglio anche il minti dentro Perché Cioè Comunque è mio piccolo preferito Tutto ok Va bene Eh vabbè Però bro Così di questo passo Io non ci arriverò mai A 10 Raga avete 5 secondi Per lasciare like A questo video E scrivermi Qual è la vostra canzone Per venire da Supreme Avete 5 secondi Per lasciare like 5 4 3 2 1 Continuiamo Ok Però Io non ti sto trattando male Perché devi Eh capito Cioè io ti sto dicendo Che ti segui Ok vabbè Dai lasciamo stare Comunque ti volevo dire Quando è che fai Un prossimo brano Poi mi puoi anche invitare Cioè capito Io sono bravo a cantare Se vuoi Non lo so Ma come non lo sai Ma Ma lo sai benissimo No raga raga Ma Che no Che no Vabbè però Senso capito Io sono come da Supreme Cioè il contratto Ma che cosa sta dicendo No bro Devi cantare Se no da Supreme Come fa Sapere che sei bravo Se sei un po' Lo devi fare Ecco sono qui Tipico se non Così Mi chiamo Credo Tu solo immagina Di poter giocare A un vero PC Da gaming Che faccia girare Fortnite FIFA 20 GTA 5 Apex Legends E tantissimi altri giochi Che tu potesti amare Al massimo Degli FPS Beh Tutto ciò è possibile Tramite il cloud gaming Che cos'è il cloud gaming? È quando tu Sfrutti Il tuo PC scrauso Che non ti permette Di giocare i giochi seriamente E la tua connessione Per giocare A dei PC Da gaming Prestati da qualcun altro Questo qualcun altro È Boosteroid Infatti Il sito di Boosteroid Basta semplicemente Che vi registriate Gratuitamente Al sito Vi permette Di prendere in prestito Dei PC da gaming Fortissimi Di sfruttare i vostri PC Schifosi Non da gaming Per giocare I migliori titoli Di gamma Non perdetevi Questa occasione Registratevi Dal link Che trovate in descrizione E provate voi stessi Cosa significa Avere veramente Un PC da gaming Ma ora Torniamo al video Adesso lo uccido No No Adesso prima Ma dai Ma dai Allora Io anzitutto Mi sto necavolando Allora Non è possibile Io ti dico Devo fare la storia E tu E tu mi ammazzi Basta Sarei pure bravo Come cantante Ma Mi è stufato Basta Adesso Adesso è l'ora Di attivare le aimbot Avevo ragione Sì 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 Va bene vai Ok 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 Ci ho fatta Fermo Oh no 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 Oddio Sì T'ho ammazzato Ma che cosa Ma come ho fatto Ma come ho fatto Ma come ho fatto Sono fortissimo Sono fortissimo Gio Ma è vero che ci crede Gio Gio Non ci crede Non ci crede Sei un cantante Ma Veramente come player Guarda Se mi impegno Aspetta Questo qua è Quale ci sta credendo Tantissimo Ho sbagliato Aspetta C'ho la sensi Troppo alta Un attimo Ok Ambassata No Scherzavo Ma non mi interessa Ok Ok Ho capito Va bene Ma sai che scazzo Sei Proprio scarso Proprio scarso Eh va bene Va bene Ok Sì Ok Eh va bene Che bravo Questa paletta Come Come ho usato No Fermo Fermo Adesso devo scrivere Epic Games F*** you all No Ok Adesso scrivo un'email Adesso scrivo un'email Stai fermo No 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 Adesso scrivo la Epic E dico E dico che sei un pessimo cantante E dico motivazione Che sei Cattivo con me Perché io Cerco di essere il tuo fan No Già che mi spari Non mi piace Stai buono Allora perché veramente Io Guarda mi fa E si Tu sei un Pise Pisellino Stai buono No 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 Allora Fermo No No Smettila Spari rosso no Uno scar Ok Ma tu che codice usi nello show? Sono sicuro che adesso prima è curioso Uso il mio codice Cioè? Non ti deve interessare Dai, serio, sono curioso, che codice usi? Quello di Octi PFI, vai, almeno mi regala il pass battaglia Anche se Te lo dico, anche Octi è bravo come youtuber Però io non li riesco a dire in faccia Cioè mi fa schifo, ho capito quando ti fa librezzo Oh, aspetta un attimo Sì E ogni volta non sei utile sei Eh sì, stai sbagliando strada Meglio che vai a vendere, è una rivelazione Ha detto che sei bravo come youtuber Quella L adesso ti stacco il dito, vedi? Vedi, vedi, vedi Ti faccio tenere il microfono coi piedi poi Cantante inutile Eh sì, va bene, va bene, però ok E te saresti un cantante? Uno così come te? Sai cosa sarebbe bravo a fare? A vendere un bel pane arabo Con un po' di cipolla dentro Ma non ti ho chiesto conferma, io ti sarò una fermazione Eh no, basta, però io mi sto soppando Eh, ho capito, va bene Io ti butto su un portone Io ti butto su un portone Ho capito, non mi interessa Ok ragazzi, guardate un po' Allora sono ben le 7.20 di sera Un attimo che da su prima non riesce a capire Che è un fallito quando mi spara Comunque guardate tutti quanti ragazzi Fate sue pappa Perché sono soltanto 50 follower Ragazzi, ve lo dico Sto giocando con la su prima E sto facendo un 1 con la su prima E quindi Ricordo di lasciare like E dovete assolutamente poi dopo Seguirmi su YouTube Perché questo monte ci uscirà Ovviamente non metterò le parti dove mi uccide Perché comunque è uno scherzone E niente Ci vediamo domani col monte Bella raga Giù, giù, giù Siamo arrivati a 10 Ormai ha perso la sfida Ormai ha perso la sfida Comunque siamo arrivati a 12 Cioè hai perso la sfida Sei scarso No, fra, fidati È un bug visivo da l'epic No Vabbè Almeno mi rispondi nei direct, vero? Beh, mi sembra abbastanza aggressivo Non penso Però dai bro, ti prego Vabbè, ma allora veramente non serve proprio una tega Vabbè, comunque Oh, la vuoi finire? Comunque Allora, fammi sto favore Allora Io, io ora ti ho inviato la richiesta Bene? Ecco bravo No Al posto di dire ok Accetterei Ora te l'accetto Ma come non lo sai bro? Dai, ti ho detto che Sono un tuo fan Non è basta Vabbè, basta Mi sto stufando Raga, ora abbandono Ora abbandono E adesso il piccone minti che me lo dà Sono già entro il piccone minti Ma abbiamo capito il preferito Ma che cazzo